Come aprire un conto in Svizzera? Fuga dalla trappola europea. L'Italia è indebitata del 122% del prodotto interno lordo, al secondo posto dopo la Grecia col 178%. Sappiamo che tante banche italiane sono in crisi, sono risparmiatori italiani a finanziare le promesse elettorali del nuovo governo. Il New York Times scrive che l'Italia rischia di scatenare una crisi finanziaria. La settimana scorsa ho ricevuto tante telefonate da risparmiatori italiani preoccupati. Più sale lo spread, più telefonate arrivano. Gli italiani hanno paura di trovare chiuso lo sportello della loro banca e di poter prelevare solo 50 euro al giorno, come è successo in Grecia. Non si fidano dell'euro, cercano soluzioni per fuggire dalla trappola europea per proteggere i risparmi. Questo video mostra come fuggire dalla trappola europea, come legalmente salvare i risparmi, come aprire un conto in Svizzera e mettere i soldi al sicuro, come evitare la svalutazione investendo in valute forti, come il franco svizzero che diventerà ancora più forte e come approfittare della performance di un conto professionalmente gestito in Svizzera. Salve, sono Enzo Caputo, un avvocato d'affari svizzero, figlio di emigrati italiani, proprietario dello studio legale Caputo & Partners da Zurico Paradeplatz in Svizzera, fondatore di SwissBankingLawyers.com, il sito onde imprenditori di tutto il mondo, trovano informazioni e soluzioni per asset protection a livello internazionale. I risparmiatori hanno paura di trovarsi le banche chiuse e di poter prelevare solo 50 euro al giorno, come è successo in Grecia. La paura che l'Italia esca dall'euro è tanta. Tanti temono che la svalutazione della nuova lira possa costare gran parte dei risparmi. Secondo me il pericolo più grande per i risparmiatori è che il nuovo governo potrebbe vietare trasferimenti di denaro all'estero per proteggere le banche italiane. Chi vuole trasferire una parte dei risparmi in Svizzera deve farlo ora. Oggi è completamente legale portare i risparmi in Svizzera. Domani, chi lo sa, spesso i governi in difficoltà vietano la fuga di capitali all'estero. Per l'Italia una simile misura potrebbe avverarsi da un giorno all'altro impossibile. I trasferimenti sono fatti con un bonifico bancario. Non consiglio esportazione di soldi in contanti anche se sotto la soglia di 10.000 euro è consentito dalla legge. Ho avuto diversi clienti fermati a chiasso anche con somme al di sotto di 10.000 euro. In Svizzera invece il contante è legale, senza limite. Qualora il trasferimento di denaro all'estero diventasse legale sarebbe troppo tardi per salvare i risparmi. Basta compilare il famoso quadro RV. Si dichiarano i conti bancari in Svizzera. Avere un conto in Svizzera è legale. Lo scambio automatico di informazioni imposto dall'Ocse assicura che l'Agenzia delle Entrate sia informata sugli averi esteri. I gestori svizzeri hanno un'esperienza di 200 anni nella gestione patrimoniale. Mirano a fare una diversificazione globale degli investimenti per mitigare i rischi. Non sono legali legati ai prodotti omologati come in Italia. In Svizzera il gestore è libero a investire a livello globale in diverse valute forti e prodotti strutturati, inclusi investimenti sofisticati come hedge funds riservati a investitori qualificati. I conti svizzeri offrono ovunque investimenti in diverse valute. Il conto sarà gestito in diverse valute forti come dollaro americano, franco svizzero, yen giapponese e sterline inglese, per assorbire i rischi sulle valute. La diversificazione dei rischi è fondamentale nella gestione patrimoniale. Consiglio un gestore esterno indipendente per eliminare ogni conflitto di interesse tra banca e cliente, che soddisfa unicamente gli interessi del cliente. Il private banking in Svizzera è un business di successo. Negli ultimi due anni le banche svizzere hanno attirato capitali immensi dagli Stati Uniti d'America e dalla Cina. Il 30% di tutti gli averi globali in mano privata è gestito da banche svizzere. Se non fossero bravi i gestori svizzeri, non verrebbe in Italia il 30% del capitale mondiale in mano privata. Le banche svizzere sono le più sicure del mondo. Hanno una Tier 1 Capital Ratio anche al di sopra del 25%, mentre le banche inglesi arrivano appena al 9% in media. La Tier 1 Ratio è una misura per misurare la capitalizzazione e la sicurezza di una banca. Quali sono i documenti che devi preparare per aprire un conto in Svizzera? Serve un passaporto valido? La banca deve identificare il beneficiario economico del conto. Il passaporto deve essere valido almeno per un altro anno. La patente di guida non basta. La banca confronterà il tuo nome con il database chiamato WorldCheck. Nel WorldCheck si trovano tutti i nomi negativamente menzionati in tutti i media del mondo. Tutte le banche svizzere usano WorldCheck. L'apertura a conto diventa quasi impossibile per chi appare in WorldCheck. È necessaria una fattura sul consumo di acqua e di elettricità. In originale per mostrare la presenza fisica sul luogo di residenza. Una bolletta che evidenzia il consumo d'acqua, di energia elettrica o il consumo di gas è perfetta. Una bolletta telefonica non è sufficiente. Devi documentare il tuo background economico. La documentazione sulla provenienza legittima dei fondi è imperativa. Si deve mostrare e documentare la provenienza dei fondi. Se sei un dipendente il contratto di lavoro è sufficiente. Se i fondi sono stati ereditati puoi fornire i documenti di successione. Se hai venduto un immobile mostra i contratti. Se ti piace questo video dimostralo e dammi un like. Premi il like button. A causa delle traumatiche esperienze delle banche svizzeri con l'evasione fiscale, ma soprattutto le multe astronomiche di miliardi di dollari imposti dagli americani, le banche chiedono il codice fiscale. Se i tuoi soldi non sono dichiarati, non aprirai mai un conto in Svizzera. Troppo grossa è la paura delle banche di capitare in avventure con multe astronomiche. Ora faccio un avvertimento a tutti gli evasori fiscali che vogliono nascondere il nero. In internet ci sono siti gestiti dai russi. Questi siti russi offrono l'apertura conto in lingua italiana a Tbilisi, in Georgia o nel Montenegro. Sia la Georgia, sia il Montenegro, nei prossimi due o massimo tre anni faranno parte anche loro dello scambio automatico di informazioni. Il fisco italiano ne verrà a conoscenza dei conti. Ti sembra complicata la procedura di apertura conto? Non ti preoccupare. Ti guidirò io passo per passo e ti aiuterò a comporre tutta la documentazione necessaria. Insieme sceglieremo la banca più sicura e mirata alle tue esigenze. Termineremo tutta la procedura in un solo giorno. È importante scegliere una banca che abbia un sistema informatico idoneo per il quadro RV. Il quadro RV è la dichiarazione fiscale per conti esteri. Le banche svizzere hanno i sistemi informatici più avanzati del mondo. Gli estratti conto sono in lingua italiana. Sono fatti apposta per il quadro RV. Se hai domande come aprire un conto in Svizzera, scrivi la tua domanda nella maschera dei commenti sotto il video. Risponderò a tutte le tue domande entro 24 ore. Se non ti vuoi perdere i prossimi video, premi il subscribe button e abbono al mio canale YouTube. Se hai una domanda confidenziale che vuoi discutere solo con me, se vuoi proteggere i tuoi risparmi e uscire dalla trappola europea in un solo giorno e aprire oggi stesso un conto in Svizzera, prendi il tuo cellulare in mano e chiama 0041442124404. Non è mai troppo presto per proteggere i tuoi risparmi. Metti gran parte dei tuoi risparmi al sicuro in Svizzera. Fallo prima che i trasferimenti all'estero diventino illegali. come è già successo in passato. Ti auguro una bellissima giornata. Svizzera. 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 Grazie a tutti.